Venite da lontano? Da Napoli E' migrante? No Di solito negli altri film io, come sai, la regia prende la macchina da presa, ho ottenuto in aria, dopo cade e la ricorda, vabbè, allora da qua fate l'inquadratura, invece questo film qua è stato uguale, però l'ho messo con più delicatezza, perché ci prendevano un sacco di soldi in macchina da presa, puttano lì in aria, però, insomma, mi sono impegnato un po' di più, diciamo, nella regia Io penso che il cinema sia più comodo, sia più remunerativo, sia più tutto, insomma, tra la possibilità e i favori contemporaneamente quelli che hai fatto in tutta Italia, senza aspettare due anni per arrivare da Catania a Bolzano, e poi, secondo me, per me è ancora talmente un gioco, è ancora talmente un mezzo nuovo il cinema, che mi incuriosisce ancora come la prima volta, perché io sto da dieci anni, ma ci stanno attori, attrici, gente che in dieci anni ha già fatto 20 film, 30 film, non ha fatto solo 4, insomma, quindi è come se fosse ancora un esordiente, insomma, io vago ancora pigliato con una certa cautela, voglio dire, insomma, Invece sto facendo ancora dei passettini che, ti ripeto, mi incuriosiscono, mi piacciono, mi avvicinano al mezzo espressivo che è il cinema, che è diverso da quella teatrale. E questo Gaetano, non è americano? No, è di Napoli. Ah, è emigrante? No. Voi siete napoletano, eh? Sì, sì, ma non è emigrante. No, 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 perché capare una napoletana non può viaggiare, può solamente emigrare.